Ridurre il numero di nascite pericolose per le mamme e il bambino. Nasce con questa finalità il nuovo servizio di trasporto in emergenza del neonato, lo STEN, il cui avvio è stato presentato a Bari dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con i tre dirigenti dei centri di terapia intensiva neonatale, Nicola Laforgia del Polichinico di Bari, Giuseppe Presta del Vito Fassi di Lecce e Giuseppe Popolo degli ospedali riuniti di Foggia. In realtà dal primo novembre ci sono tre ambulanze dedicate al trasporto del neonato che attrezzate e dotate di incubatrici del trasporto e delle attrezzature necessarie partiranno con autisti e personale medico-infermeristico formato e dedicato dai tre centri ospedalieri individuati. Le ambulanze risponderanno H24 per 365 giorni all'anno ad ogni richiesta dei punti nascita esistenti in Puglia. Un servizio fondamentale per il nascitore della mamma, spiega il professor Nicola Laforgia. Finalmente sia a Bari, sia a Foggia che a Lecce esistono queste ambulanze per il trasporto di emergenza neonatale che possono andare in loco, cioè negli altri ospedali, prendere in sicurezza i bambini, sistemarli sull'ambulanza, trasportarli nel centro di terapia intensiva e questo ovviamente rappresenta una possibilità di dare migliore salute a questi bambini piuttosto che farli arrivare in condizioni non ideali. Il servizio non è che viene messo in piedi per consentire di nascere nei posti più sbagliati del mondo. Bisogna nascere nei posti dove c'è un servizio di neonatologia. Ovviamente non tutti hanno una terapia intensiva neonatale, sarebbe un dispendio di energie e di spesa mostruoso, però possono esserci situazioni in cui i bambini hanno bisogno di essere trasferiti in un ospedale con maggiori competenze. Il fatto di avere personale e ambulanza consente di fare un trasporto in sicurezza.